Musica Sì, che vanno per lì Sì, che vanno per lì Sì, che vanno per lì 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 comunque probabilmente la cosa che a me non piace di questo tipo di assetto è il rimbalzo verso l'alto della moto la tendenza di impennare e andrebbe farlo più così basta così basta no no io penso che boh è caruto è caruto che Michele come si chiama? capito? proprio come prende questo ma non va neanche molto giù come tocca si alza che è quella cosa che a te probabilmente piace guarda che è avvito di cosa devo fare avvito facciamo avvito ti è volato? no ma non ti è volato passate qui mi riesce a volare è una confusa a fare proviamo proviamo tu dici non ti passa non ti passa ma non ti passa Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.